il tag è fantastico finché per fortuna c'è ribellato medical group come to usc, Justin, come was the game built by this pitch? I mean all credit to Paris, they walked around Jermon and scored 100 points, we can't beat anybody in the league if we let teams score 100 points, we've shown how we can win games with defence and that's going to be the way that we continue to win games, we got to stay Giustin ha detto grande merito a Varese, sono venuti in cui a Tala Verde hanno segnato più di cento punti. Non possiamo permettere che la nostra difesa lascia così tanti punti agli avversari perché il 2020 vincere diventa difficile. Dal terzo quarto in poi si è visto comunque un aumento del ritmo attensivo, si è visto un gioco migliore e ha aggiunto dobbiamo continuare a essere insieme e lavorare insieme in cui ricevono questa situazione. Adesso chiediamo anche a Justin un commento sul proprio dichiarato e lo stato della squadra, spesso sotto in doppia cifra però sempre è capace di entrare fino al meno uno. Giustin, often you are down 10 o' more points per la squadra, ma Sili managed to getta down to only one score. So, that's a positive you can bring to the next game? Per sicuramente, c'è sempre positivi, ma devi guardare anche i negativi. Come ho detto, abbiamo 100 e 1 punti, quindi è molto importante. Come ho detto, l'Hokar e la Tepera, sono una buona squadra. Ci vediamo anche se ci vediamo. Io credo che ci vediamo il basket e ci vediamo. Prima di tutto, Giassino ha detto che ho finito in questa squadra e so che riusciremo a risolvere questa situazione. Per quanto riguarda il carattere, sì, è una cosa positiva, però ci sono anche alcune cose negative che bisogna sistemare in realtà. Grazie a tutti.